Diventa una realtà l'International Flight Training School, la scuola internazionale di volo militare, che avrà sede nell'aeroporto militare di Decimo Manu. Stamattina il Presidente della Regione Cristian Solinas e il Generale Luca Goretti, sotto capo di Stato Maggiore dell'Arma Azzurra, hanno firmato a Villa Devoto l'intesa che dà il via libera al progetto, che vede come partner industriale la società Leonardo, leader mondiale nel settore dei jet di addestramento. È un progetto importante che darà un ruolo di primo piano alla Sardegna nel contesto internazionale in un settore strategico per il Paese, ha rilevato il Presidente Solinas. Le basi dell'accordo erano state gettate la settimana scorsa con la visita a Cagliari di una delegazione costituita dai vertici Leonardo e dell'Aeronautica Militare. La scuola di volo dovrebbe diventare operativa nel secondo semestre del 2022 e l'accordo prevede un impegno ventennale. L'obiettivo dell'Aeronautica Militare di Leonardo è quello di creare un centro di eccellenza per l'addestramento dei piloti militari che potranno usufruire dei più avanzati addestrattori al mondo come gli M346 prodotti da Leonardo e avere a disposizione gli istruttori dell'arma azzurra. Le ricadute per il territorio saranno importanti. Innanzitutto si rivitalizza una base, quella di decimo, che dopo il super lavoro addestrattivo e non solo nel periodo della Guerra Fredda, negli ultimi dieci anni aveva visto un progressivo abbandono da parte delle forze aeree della Nato. Inoltre sono previsti i lavori di adeguamento della struttura che determineranno importanti investimenti. A questo va aggiunto il flusso di piloti in addestramento e alcune centinaia di militari e tecnici di Leonardo che saranno di base a decimo.